10 aprile 2010, primo incontro Libri che passione, che emozione, adesso vedremo come va, siamo ancora all'inizio, però lo scenario è perfetto, la gente sembra essere al top, i libri sembrano particolari e adesso vedo se riesco a trovarne qualcuno che valga la pena leggere, tanto quanto il mio amore per la vita.